Una speranza di ripartire per la cartiera Pieretti di Marlia, dichiarata fallita alla fine dello scorso anno. L'ufficio fallimentare ha infatti ricevuto da un imprenditore un'offerta di affitto dell'azienda per il periodo di quattro mesi per la cifra di 20.000 euro. Ma soprattutto al termine di questo periodo l'acquirente sarebbe disposto a rilevare lo stabilimento a titolo definitivo sborsando un milione e mezzo di euro. Quindi l'ufficio ha già fissato un'asta per verificare se ci sono altri acquirenti disposti magari ad alzare l'offerta. L'appuntamento è fissato per il 14 febbraio che sarà quindi il giorno della verità per un eventuale nuovo futuro della cartiera. Anche se bisognerà vedere in caso di acquisto quali saranno le intenzioni della nuova gestione in particolare sotto l'aspetto occupazionale. Al momento del fallimento i dipendenti erano rimasti circa una ventina. Fino all'ultimo i sindacati avevano tentato di evitare la fine anche organizzando presidi davanti all'ingresso dell'azienda. Per cercare di evitare il tracollo c'era stato anche un appello del sindaco di Capanno Rimenesini ma non c'era stato niente da fare. Adesso però per la Pieretti potrebbe esserci una nuova prospettiva.